Ridotto ormai ad uno sceletro vivente, il 19 aprile del 2016, veni dimessa e rimandata a casa. Così la donna di 53 anni, a cui è stato asportato lo stomaco per una diagnosi di tumore maligno totalmente sbagliata per la procura di Monza, ha raccontato nella denuncia presentata dall'avvocato Francesco Cioppa e che poi ha fatto scattare il processo a carico di due chirurghi, il calvario dal quale è derivato, come ha spiegato lei stessa, una vera e propria brutale, indegna ingiustificabile sul piano scientifico mutilazione. Nella querela la 53enne, madre di tre figli che lavora in una dita di ristorazione, racconta passo passo come si arrivò da un incidente stradale nel quale rimase coinvolta a fine marzo 2016 fino al ricovero all'ospedale multimedica di Sesto San Giovanni e all'operazione del 4 aprile in cui le venne tolto lo stomaco. Solo il 27 maggio 2016 da un nostro consulente medico avemmo la conferma che la diagnosi di tumore allo stomaco era priva di fondamento scientifico. Già mai, scrive la donna nella denuncia del 30 giugno 2016, avrei immaginato di ritrovarmi nello stato di assoluto sconforto e di prostrazione fisica e psichica, quale quello in cui verso ora, indottomi dai devastanti ed inumani effetti invalidanti di un microscopico, inspiegabile, incredibile errore diagnostico e terapeutico. Racconta poi quella che definisce una incredibile odissea, iniziata con un incidente stradale il 25 marzo 2016 che le causò alcune contusioni, un trauma cervicale e sintomi come nausea e vomito. Il 31 marzo venne ricoverato all'ospedale di Sesto, dove fu sottoposta a vari esami, tra cui un'ecografia. Le dissero che era portatrice di ulcera gastrica in fase di recrudescenza. Purtroppo, ha spiegato, non era quella la verità sulle ragioni del mio ricovero. Una dottoressa, infatti, richiamato mio marito in separata sede, disse a costui che io ero affetta da una grave forma di tumore maligno allo stomaco. Ero distrutta, tumore quindi non ulcera gastrica. La operarono il 4 aprile. Il 5 maggio fece una visita nello stesso ospedale, dove arrivò come un cadavere ambulante e dove le venne detto che gli esami istologici erano negativi e che era risultata afflitta esclusivamente da un'ulcera gastrica. E ancora prosegue la donna. Chiedemmo alla dottoressa del perché, in assenza di tumore alcuno, mi era stato comunque asportato lo stomaco, ricevendo da questa una laconica risposta. Signora, la gastroctomia andava comunque effettuata per le altre patologie che la affliggevano.